il referendum l'esito referendum ha salvato le province e quindi domenica ci saranno le elezioni indirette quindi per chi magari non segue queste cose quotidiane i cittadini non andranno a votare sarà un'elezione indiretta tre le liste siamo con il segretario provinciale del pd massimiliano dindalini che cosa si prevede che che diciamo attesa vi fate per quanto riguarda l'esito con queste tre liste una ovviamente la vostra ma intanto dobbiamo dire che quello che accadrà domenica è un passaggio secondo me non felice non felice perché le province che rimarranno per scelta costituzionale hanno una fase intermedia in cui sono i consiglieri comunali e i sindaci di tutti i comuni della provincia di Arezzo che attraverso un voto ponderato cioè in base ai residenti che hanno nel comune in cui sono stati eletti eleggeranno i 12 consiglieri provinciali che aiuteranno il presidente vasai a gestire le competenze sono rimaste la provincia è una situazione ibrida che deve essere affrontata mi auguro dal prossimo governo perché non possiamo avere un ente istituzionale di questo tipo con le competenze che ha con una rappresentanza istituzionale non legittimata ai cittadini credo che su questo occorra ripensare la strategia o modificare la legge del rio sulle competenze perché in questo modo sicuramente non può funzionare quello che si prevede in realtà sta scritto nei numeri perché il voto ponderato se tutti i consiglieri comunali della provincia di Arezzo e i sindaci andranno a votare la lista di centro-sinistra di cui fa parte anche il partito democratico dovrebbe assieme a vasai mantenere diciamo sì la maggioranza all'interno del consiglio provinciale sapendo che ha un come dire per ogni delibera comunque servono le doppie maggioranze che servono la maggioranza dei sindaci dell'assemblea dei sindaci e la maggioranza del consiglio provinciale dipenderà molto dalla possibilità di andare a votare tra l'altro domenica sarà una giornata si vota solamente nel palazzo della provincia e non sarà neanche semplice probabilmente raggiungere il luogo di voto perché domenica sarà una città pre natalizia molto movimentata con iniziative nella parte alta della città quindi non sarà semplice consentire a tutti i consiglieri provinciali che vengono da Bagliate d'Alda, Sestino, Poppi, Montemignaio per non parlare dei comuni di tutte e quattro le vallate prendersi un po' di tempo per venire a fare una votazione di questo tipo che non è neanche gratificante